Quando due eccellenze del territorio aversano decidono di legarsi, ne nasce un binomio perfetto, più che perfetto, vincente. È con queste premesse che il Volleyball Aversa ha annunciato l'ingresso nella propria famiglia del main sponsor, Exton. Eccellenza del territorio aversano, Exton è un'azienda di produzione artigianale di calzature, che rappresenta la storia del settore. Exton lega così il proprio brand al Volleyball Aversa, iniziando un percorso che porterà in tutta Italia l'eccellenza sportiva ed imprenditoriale della città, che, ancora prima di farlo sul campo, dimostra di aver già vinto fuori. E mentre la dirigenza rosso-blu si è stata da fare per portare a casa questo importante risultato, i ragazzi di Coach Nappa, nella serata di ieri, hanno incontrato in amichevole l'Alma Mater Casandrina, formazione retrocessa dalla 2, che quest'anno milita nel campionato di B1, una gara fuori dagli schemi tradizionali, che finisce in parità 2-2 il compito finale, con un ultimo set che vale doppio, 30-32. Una prova da cui si emince una gran potenzialità del Volleyball Aversa, che non sfigura neanche davanti a un compagine di tutto rispetto, come Casandrina. Un modo in più per arrivare al Pallaglia Cazzi pronti ed entusiasti per la prima di campionato in casa, in programma domenica 27 alle ore 18, nella casa dello Sport Aversano, davanti, si spera, ad un pubblico delle grandi occasioni.